Indagini aperte a Talsano per un'auto incendiata, non un'auto qualunque, ma il mezzo di proprietà di Salvatore Marino, direttore dell'Istituto di Vigilanza SEPRO di Taranto, l'istituto a sede in via Duca di Genova. Il rogo però è avvenuto in via salvo d'acquisto a Talsano. Alle 5.20 del mattino l'auto, una Fiat Grande Punto, è stata trovata travolta dalle fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo e che, soprattutto, stanno accertando le cause dell'incendio. Con loro sono arrivati anche gli uomini della polizia. Che l'incendio sia stato appiccato per mano di qualcuno ancora non è certo. Fatto sta che si tratta dell'auto del direttore di un istituto di vigilanza, un particolare che potrebbe far pensare ad un avvertimento rivolto proprio a quella persona, un particolare che potrebbe non essere una banale coincidenza, ma saranno le indagini della polizia a fare luce sull'episodio.